Siamo con la terza canzone, la terza riguardo di musica. Come si vede? Aspetta guarda. Siamo con la terza canzone, la terza canzone, la terza canzone, la terza canzone. Siamo con la terza canzone, la terza canzone, la terza canzone, la terza canzone e la terza canzone. Grazie per la visione! Grazie per la visione!